Naso, direi che queste vacanze le trascorrerà parecchio, parecchio, lavorando. Il nostro primo ospite, il senatore, il presidente Matteo Renzi, leader d'Italia Viva, a cui è tornato al TG4, bentornato con noi. Buonasera a lei Stefania, buonasera agli ascoltatori. Tra l'altro, faccio un piccolo passo indietro, visto che parliamo di Draghi, perché lei in questo governo, come dire, ha una responsabilità in apertura e un convolgimento in chiusura. Perché? Perché sappiamo che il governo Draghi nasce con un suo gesto importante che è stato il ritiro dei ministri e da lì si iniziò con la chiamata dell'ex presidente della BCE e poi sappiamo la storia qual è stata. Ma è stato anche testimone di un retroscena che, insomma, in qualche modo faceva pensare ad un possibile Conte Terra, addirittura. Per un paio di giorni girò una clip, come la chiamiamo noi in gergo, in cui lei raccontava questo aneddoto. Io sono orgogliosissimo di aver mandato a casa Giuseppe Conte e di aver creato le condizioni per portare Mario Draghi. Sono proprio orgogliosissimo. Tutti dicono dell'agenda Draghi, no? Che nel suo servizio, nel servizio dei suoi colleghi, si vedeva bene l'agenda Draghi e credibilità. Ebbene, noi saremo sempre dalla parte di chi ha voluto Draghi. Chi l'ha mandato a casa, e mi riferisco a quella clip e non solo, è sicuramente Giuseppe Conte, che lo ha voluto far fuori per vendicarsi di ciò che era successo nel gennaio 2021, Forza Italia e la Lega, che hanno votato la sfiducia, e una parte del PD che allora non volle il Draghi bis, ma in qualche misura sognò un'altra manovra di palazzo. Ora io di manovra di palazzo me ne intendo, non sono una mammoletta. Però le dico anche che in questo momento è stato dai responsabili mandare a casa Draghi. C'è l'inflazione. Le famiglie non arrivano alla fine del mese. Ogni giorno c'è una tensione internazionale nuova. Adesso Taiwan. Ebbene, servirebbe credibilità e responsabilità quella che Draghi ha, o forse è meglio dire il governo aveva, e non quella che questi partiti impegnati nella lotta tra coalizioni stanno mostrando di non avere. Diciamo che, visto che ha menzionato l'agenda Draghi, è questo uno dei punti che in qualche modo ha scatenato il niet di calenda a fratto gli anni. E qui veniamo per un attimo ai giorni nostri, perché è un'altra giornata con un turbine di aggiornamenti, di notizie, di botta e risposta spesso sui social per quel che succede in area DEM, su quella che dovrebbe essere l'alleanza di centro-sinistra. Che cosa succede? Che fratto gli anni prende le distanze sostanzialmente da una parte di quell'accordo fatto tra Letta e Calenda. I Verdi sono pronti a salire sul carro, chiamiamolo così, del PD, ma il botta e risposta di accuse, soprattutto da parte di Calenda, nei fronti dei due nuovi partner che dovrebbero formare la nuova alleanza, prosegue. E ci sono anche i malumori di Maio, insomma un'alleanza dove prima ancora di allearsi si sta litigando. Facciamo il punto nel servizio e poi torniamo da Presidente Renzi. La situazione tesa per tutta la giornata precipita nel pomeriggio quando le agenzie battono questo flash nuovo incontro Calenda-Letta. Un incontro quanto mai necessario dopo l'agitazione delle ultime ore. Ma riavolgiamo il nastro. È chiaro già dal mattino che due giorni chiesti da Verdi a Sinistra Italiana per decidere se stare dentro o fuori la coalizione guidata da Enrico Letta si rivelano i più agitati di quest'inizio di campagna elettorale. Ad accendere la miccia Carlo Calenda con la consueta franchezza. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto dell'accordo con il PD. Scrive il leader di azione su Twitter. L'intesa fatta è una scelta. Può essere cancellata ma non annacquata, aggiungendo partiti zattera o iniziative incoerenti. Decidete. Si scatena il putiferio su un punto, soprattutto l'agenda Draghi, sulla quale insiste da sempre Calenda che frato gli anni arriva a dire che non esiste. Calenda ha stretto giro twitta. A queste condizioni, per quanto ci concerne, non c'è spazio per loro nella coalizione. Ma è a Letta che Calenda più o meno direttamente rivolge le accuse. E con il segretario Dem che pochi giorni fa ha siglato un patto con tanto di testimoni. Per il leader di azione Letta non può dire sì a tutti. E soprattutto, non è accettabile che il PD non prenda posizione di fronte agli attacchi personali di Bonelli e frato gli anni. Chiarite, rilancia Calenda, da Twitter. A stretto giro, Letta lo incontra. Pace fatta, lo scopriremo a breve o forse no, perché di poco fa la notizia che Letta nelle prossime ore vedrà anche frato gli anni e Bonelli. Insomma, i giochi sembrano ancora aperti nel centro-sinistra. È un estremista, tuona Luigi Di Maio. Un bambino viziato che va educato, rincara la dose Angelo Bonelli. Non si fanno certo attendere le reazioni alle dure parole di Calenda contro i possibili ma sgraditi compagni di campagna elettorale. Il ministro degli esteri continua a chiedere più rispetto e meno arroganza. Vuole essere il gregario del centro-sinistra, ma con il suo atteggiamento sta disgregando la coalizione ancora prima che si formi. Basta critiche e attacchi reciproci, così salta tutto, rincara la dose Tabacci. Stesse parole dal fronte rosso-verde. Intanto sinistra italiana, in attesa di un segnale chiaro dai dem, lascerà ai propri scritti l'ultima parola sull'alleanza. Mentre i verdi chiudono ai 5 Stelle, ritenendo l'unica alleanza percorribile quella con il PD. A cercare di riportare alla calma è Dario Franceschini. Calenda, frato gli anni, fermatevi, accettate le diversità. L'appello accorato su Twitter. E in molti dal Partito Democratico chiedono a Calenda di non disfare la tela che Enrico Letta sta faticosamente tessendo, rinnovando l'appello al campo largo. È nostra precisa responsabilità aggregare tutte le forze civiche e politiche su una moderna idea d'Europa, sulla certezza del lavoro e soprattutto sui diritti civili e sociali. Facciamo appello a tutte le forze politiche di essere uniti e di anteporre gli interessi degli italiani davanti agli interessi dei singoli partiti. Una nota di ironia in questo clima di veti incrociati arriva da Matteo Orfini. Un hacker che manda in down Twitter per tre giorni lo abbiamo? Così magari riusciamo a completare la coalizione senza drammi. L'aggiornamento è che i Verdi hanno appena detto sì all'alleanza col PD. Quindi manca sinistra italiana con frato gli anni. Vedremo che cosa succederà. Perché c'è una lavatrice alle mie spalle? Perché in questa campagna elettorale c'è spazio anche per un po' di ironia. Questo è il video che ha pubblicato la moglie di Calenda Violante insegnando al marito evidentemente come si fa una lavatrice che poi ha commentato dicendo sono qui che cerco di battermi per guidare il paese ma mia moglie non mi reputa nemmeno capace di fare un bucato. Allora, ironia a parte, torniamo seri. Per tornare dal presidente Renzi. Questo è il titolo del colloquio, non intervista, colloquio con l'etta del messaggero. Un dovere è stare insieme ma fare i maccordi separati. Io credo, Renzi, che sia simbolico di quella che è la percezione di cosa sta accadendo in questo tentativo di alleanza. Allora, comanda letta, comanda calenda, chi segna la rotta e soprattutto qual è la rotta? Perché è tutto molto confuso prima ancora di cominciare. Lei li conosce meglio, quindi magari ci può aiutare a capire cosa succederà. L'unica cosa che io ho capito è che io con questa gente non ci posso stare. Noi non stiamo dentro questa coalizione perché tra una lavatrice e una polemica interna discutono di tutto tranne che dei problemi degli italiani. Abbiamo l'inflazione ai livelli più alti da tanti anni. Questo vuol dire che la gente non arriva alla fine del mese e quando va a fare il pieno o a fare la spesa non ha i soldi sufficienti. Abbiamo una situazione energetica di crisi senza precedenti. Abbiamo un potenziale problema legato sia agli effetti dell'immigrazione che di quello che viene chiamata la sostenibilità ambientale. Bene, noi stiamo dando delle risposte. Noi diciamo, siamo gli unici a parlare ancora di sanità e diciamo prendiamo i soldi del MES, 37 miliardi di euro per la sanità. Invece loro di cosa parlano? Di come si mettono d'accordo tra di loro, di chi twitta e di chi ritwitta. Ecco, io spero che sia apprezzato che mentre le coalizioni stanno facendo questa figura abbastanza barbina di litigare su tutto, c'è anche chi ha il coraggio di aver forza soltanto di fare affidamento soltanto sulle proprie idee e lancia una campagna elettorale in positivo. Sa come le do una piccola notizia? Sa da dove partiremo noi per la campagna elettorale il giorno dopo la presentazione delle liste? Dal Salento. E sa perché dal Salento? Perché la Puglia è bella, perché c'è il mare? Certo. Ma perché c'è in Salento l'arrivo del TAP, il tubo che porta l'energia dall'Azerbaijana e che ci permetterà di non battere i denti questo inverno per il freddo, un'opera che noi volevamo e che la sinistra estrema non voleva, la destra non voleva, tutti ci attaccavano per questo, il PD di Emiliano non la voleva, D'Alema non la voleva, i Cinque Stelle non la volevano, l'abbiamo fatta e adesso aiuta il Paese. E non è successo niente alle spiagge del Salento, anzi sono ancora più belle. Ecco, loro chiacchierano di sistemazioni personali, noi dal Salento cerchiamo di parlare dei problemi dell'Italia. Ecco, ci sono fonti del PD, agenzia battuta adesso, che dicono che si vuole chiudere il quadro entro domani. Voglio ritornare però al Presidente Renzi, perché le voglio chiedere, in questo campo del possibile, visto che tutto può accadere, tutto sta accadendo, mettiamo che davvero Calenda si renda conto che, come dice lei, anche solo sull'indipendenza energetica, non ci sono elementi in comune con sinistra italiana e sinistra italiana accetti di andare col PD. Quindi ci sia questo scontro ancora. Dietro front, vado da Matteo Renzi, vado a Italia Viva. Lei è disposto ad aprire un confronto? Guardi, non c'è ombra di dubbio, però il problema è che sono 20 giorni che si discute di queste cose. Allora, noi stiamo a fare il terzo polo e chi vuole darci una mano a costruire il terzo polo è il benvenuto. Stiamo parlando con sindaci, stiamo parlando con espressioni dell'associazionismo, stiamo coinvolgendo tantissime e tantissimi volontari. C'è un sacco di gente che sta dicendo guarda Matteo, magari negli ultimi anni anche non ho condiviso tutto di quello che hai fatto, ma l'entusiasmo e la passione e il coraggio di andare da soli mi porta a dire che stavolta in questa battaglia sto con te e sto con voi. Quindi noi siamo assolutamente disponibili, ma le dico, quello che è importante per rispetto dei cittadini è che è indecente vedere quello che sta accadendo in queste ore mentre l'Italia vive una situazione di difficoltà. Cioè, prima hanno mandato a casa Draghi e qui è colpa soprattutto 5 Stelle, Forza Italia e Lega e poi dopo aver mandato via quello più bravo di tutti non riescono neanche a fare la squadra per giocare la partita. Così non ha senso. Veramente credo che siamo in presenza del più grande regalo alla Meloni. Io penso che la Meloni dovrebbe mandare un mazzo di fiori a Letta anche perché lei si ricorda la prima proposta che ha fatto Letta è alzare le tasse. Ora, se lei vuol battere il centrodestra può essere che la prima proposta che fa è aumentare le tasse alla patrimoniale l'imposta di successione. Sembra quasi che lo faccia apposta per farla vincere la Meloni. Io invece non voglio e quindi le nostre proposte moderate e riformiste cercheranno di mettere una pezza sugli errori anche del centro-sinistra. C'è anche tutta la parte poi dei rigassificatori a transazione ecologica, termovalorizzatori. Diciamo che i temi sono parecchi su qua ancora evidentemente. Però andiamo a vedere cosa dicevano. Quando io era al governo e proponevo di prendere il petrolio dalla Basilicata a Tempa Rossa, le trivelle dal Mar Adriatico, noi abbiamo detto di no, le hanno prese i croati, i rigassificatori, non solo quello che in Emilia Romagna si sta facendo e che si dovrà fare anche a Piombino, ma penso a quello di Porto Empedocle che doveva fare l'Enel. Su questi temi noi avevamo delle idee precise e ci attaccavano tutti i santi giorni, anche la destra, non solo la sinistra. Penso che la prossima campagna elettorale non sarà, come dice qualcuno, fascisti e antifascisti. Sarà una campagna elettorale tra populisti e persone serie, tra irresponsabili e persone competenti. Io ci credo molto. Andiamo a vedere come sarà e com'è la campagna elettorale nel Movimento 5 Stelle. Lo vediamo insieme. Giuseppe Conte ha un nodo, l'ennesimo, da sciogliere. Pur ribadendo la convinzione di correre da solo il prossimo 25 settembre, il capo politico dei 5 Stelle è alla ricerca di quell'accordo che al di là dei proclami potrebbe rappresentare la classica boccata d'ossigeno per un movimento in calo di popolarità. Quei sondaggi che state vedendo in questi giorni, scordiamoceli. Io credo che il Movimento 5 Stelle sarà la sorpresa positiva. Lo è stato già in passato, ci sono tutte le condizioni perché lo sia ancora. Per questo lo sguardo di Conte è sempre più rivolto verso sinistra italiana di Nicola Fratoianni, sul cui ingresso nella coalizione DEM, Calenda ha posto il veto. L'accordo di Letta con Calenda consegna il PD e ovviamente tutti coloro che staranno in questo accordo ha un difficile compromesso. Rischia di essere un cartello elettorale. Ed anche l'ultima pomeridiana bordata dell'ex premier, l'agenda Draghi, ha il sapore di un ammiccamento alla sinistra più estrema. Con quei 6-7 euro al mese in più per i lavoratori a basso reddito, definiti nient'altro che un'elemosina. Qualsiasi sarà la strada del Movimento, su una cosa Conte è determinato. Mai più calderoni o melasse di governo. Siamo già usciti e stiamo uscendo da un governo di larghe intese e abbiamo visto che queste larghe intese poi rischiano di produrre uno stallo e poi di franare. Appena cominciata la gara delle parlamentarie, nei 5 Stelle è subito scontro. Da oggi a lunedì, il via alle autocandidature, il voto online degli iscritti forse il 16 agosto. Giuseppe Conte ostenta rigore. Nessuna deroga sul tetto del doppio mandato, neanche per Virginia Raggi, ma lei, che alle Camere non è mai stata eletta, lo sfida. Le liste si fanno alla luce del sole, simile via social, e devono essere aperte a tutti, espressione del territorio, perché il Movimento non può diventare un tram per portare in Parlamento gli amici degli amici. La critica è a tutto campo, anche sull'alleanza con il PD. Le risponde la sua nemica di sempre, Roberta Lombardi, meglio il dialogo con il centro-sinistra, che l'irrilevanza ai cittadini, la attacca, ti hanno mandato a casa. Nella trattativa con Grillo, il leader ha ottenuto di poter scegliere i capilista per garantire un posto ai fedelissimi. Anche il regolamento è stato ritoccato, come nel principio di territorialità, per non impedire la corsa di big come Chiara Pendino, Stefano Patuanelli, il portavoce Rocco Casalino e Alessandro Di Battista. Un caso a parte, quello dell'ex tribuno, è stato il garante in persona di indicarlo come la carta vincente per un movimento che punta a tornare ai valori delle origini, ma lui pianta paletti e pone condizioni. Conte non può non aprire il suo ritorno, ma lo teme. E l'avvocato Borre, l'autore dei ricorsi contro il movimento, osserva come nello statuto non ci sia nulla sul potere del leader di scegliere i capilista. All'orizzonte si intravede la nascita di un asse anticonte, al quale potrebbe iscriversi anche De Magistris. L'ex sindaco di Napoli chiude oggi ad un'alleanza con i 5 Stelle bollando il leader come parte del sistema e guarda invece a Di Battista che ora tace come pure Beppe Grillo. Che fine fa Conte e Movimento 5 Stelle? Qual è il destino? Conte e Movimento 5 Stelle hanno fatto tutto il contrario di tutti. Conte è stato prima con la Lega, poi con la sinistra, poi ha appoggiato Draghi, poi l'ha mandato a casa. Quindi parlare di Conte e di coerenza nella stessa frase è praticamente impossibile. E tuttavia penso che ci sarà ancora una parte dei cittadini che voterà il voto di protesta del Movimento 5 Stelle. Non so se Di Battista fa in tempo a tornare dalla Siberia e non so quali saranno i candidati che avranno. Io penso che questi anni abbiano dimostrato che il Movimento 5 Stelle doveva abolire la povertà e la povertà è aumentata, doveva bloccare il TAP e il TAP è partito, doveva cambiare le regole del lavoro e non è cambiato niente. Quindi facciano loro. Ecco, il Movimento 5 Stelle serve a quelli come me per dire che noi siamo esattamente l'opposto. Loro sono per il reddito di cittadinanza? Bene, io sono per dare più soldi a chi lavora, non a permettere le truffe come quelle del reddito di cittadinanza. Perché è vero che qualcuno ne ha veramente bisogno, ma c'è un sacco di gente che sta lucrando sugli italiani per bene. E guardi strano, a destra c'è Salvini che il reddito di cittadinanza l'ha votato. Col PD si candida Di Maio. Anche questa è abbastanza ridicola. E non è detto però. Non è detto perché qua... Comunque sta nel centro-sinistra. E poi c'è Conte, l'unico schieramento che non vuole il reddito di cittadinanza, per come l'abbiamo visto non funzionare, siamo noi. Insomma, Movimento 5 Stelle ha detto tutto e il contrario di tutto. Noi siamo esattamente l'opposto perché pensiamo che ci vogliano persone serie e non populisti che giocano a chi la spara più grossa. Allora, richiamo anche un tweet di qualche ora fa, visto che questa campagna, lei l'ha anticipato poco fa, è molto social in questo momento, in cui sostanzialmente la frase è non abbiamo scelto la solitudine, abbiamo scelto la libertà. Ora le chiedo, in questa campagna che Orfini poco fa ha chiesto, ma speriamo che ci sia un twitter down per 48 ore così si chiude l'accordo con il PD perché molte delle tensioni passano dai social, quanto pesa la schermaglia legata al trattare sulle poltrone? Domanda. È sempre stato così, si è sempre fatto discussioni sulle poltrone, però mi lasci dire che almeno con la Prima Repubblica i vecchi politici avevano il buon gusto di discutere anche un po' di programmi, invece qui proprio sembra che non gliene freghi niente a nessuno. Io ho lanciato la cosa che dicevo prima del MES 37 miliardi, ma potrei dirle dozzine di altre ipotesi, da quella dell'abolizione dell'IRAP fino al lavoro che stiamo facendo molto faticoso ma importante sulla cultura, sulla scuola, sui teatri, sui musei. Bene, tutte le proposte che noi lanciamo non è che ricevono dall'altra parte una critica o no, dall'altra parte sono a discutere, sette a te, tre a me, io vado in tv, tu vai su internet. È veramente una cosa meschina e anche, mi lasci dire, un po' triste. Ora, io non sono un giovanottino di primo pelo che fa finta di scandalizzarsi, io ho fatto anche tante battaglie politiche, qualcuna persino macchiavellica, però non ho mai visto un livello così basso della discussione, il mio è un appello, la situazione è seria, ci vogliono politici seri, non mandate avanti quelli simpatici perché il vero voto utile è mandare persone competenti in Parlamento. Le faccio l'ultima domanda, visto che prima le ho fatto vedere la clip della lavatrice che veniva indicata, veniva indicato il percorso per Calenda, intanto voglio sapere se lei fa le lavatrici, se è autonomo. Io tutte le volte che ci provo sbaglio e le magliette che sono bianche diventano azzurre e viceversa no, però insomma me la cavo meglio con la lavastoviglie. Ma adesso che colore sceglierebbe se dovesse fare un bucato? L'unico colore che io ho nel cuore è il viola della Fiorentina, però se me la butta in politica le dico che mai come in questo momento non funziona nel rosso nel nero. Il nero fa paura ai moderati, il troppo rosso fa paura ai riformisti. Per questo c'è uno spazio centrale e questo spazio centrale è quello che copriremo noi di Italia Viva. Il blu come l'Italia. Grazie a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Grazie a voi. Ci vediamo prestissimo al TG4. Buon lavoro a questo punto e buona campagna elettorale per le prossime settimane. Grazie per essere stato con noi. Buonestate a tutti. Proonda